La gente stava scherzando, la ragazzata da Volana, se fai l'obbligo ve li fatti tutti, chiami i lampini e tutti... Perché a beneficio nostro, a beneficio del cliente, a beneficio del gestore che gestisce le attività è una cosa molto importante perché più cose si fanno bene e prima finiamo questa pandemia con un risultato migliore, con una cosa a favore di tutto il mondo, non di tutti gli italiani, perché facciamo parte tutti. È risolutiva? Non ho idea, però se è l'unica forma, anche con un'eventuale terza dose, è quello che ci consentirà certamente di poter usufruire di servizi come anche la ristorazione, le palestre e altre attività che ci mettono in contatto con gli altri senza correre rischi per noi stessi e per gli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.